Un altro incidente in piscina nella retina. La dinamica non è ancora chiara. È successo nella piscina comunale di Bibbiena, dove un bambino di tre anni, mentre si trovava in acqua, è stato colto da un malore. È stato rianimato dal personale addetto alla sorveglianza che ha utilizzato anche il defibrillatore. Sul posto un'ambulanza infermierizzata di Bibbiena, il Pegaso, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine. Il bambino è stato poi trasportato all'ospedale Meyer di Firenze in codice 3. In questa estate è il terzo incidente in piscina nella retina che vede coinvolti i bambini, uno purtroppo mortale, una bimba di appena due anni caduta in una piscina a Bucine, morta dopo una settimana al Meyer di Firenze. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. L'autopsia sul corpo della piccola ha rivelato che la causa della morte è stata l'acqua finita nei polmoni e il cloro della piscina, fatali per lei in pochi attimi. Nei giorni scorsi gli inquirenti, tra cui anche i carabinieri del NAS di Firenze, hanno fatto alcuni accertamenti nell'agriturismo. La vasca sarebbe di dimensioni ridotte, sotto ai 50 metri e sotto ai 20 utenti contemporanei, dunque non necessiterebbe la presenza di un bagnino.